come premere r sulla tastiera lo vediamo in questo semplice tutorial di oggi cari utenti di youtube davanti a me c'è il mio computer portatile il mio notebook e sotto allo schermo al monitor ovviamente c'è la relativa tastiera come come premere la r non è difficile non è complicato c'è infatti proprio il tasto r ubicato alla sinistra della tastiera è ubicato sempre alla sinistra della tastiera ricordatevelo usque morte fino alla morte ok e per fare tutto questo per schiacciare e premere r non basta non bisogna fare altro che prendere il ditino e schiacciare il tasto ok davanti a me ho il mio wordpad il mio elaboratore testi ecco il risultato guardate non c'è trucco non c'è inganno è un tutorial stupido banale cretino quello di oggi ma vedo che qua su youtube viene molto ricercato viene molto ripeto di nuovo ricercato r come ricerca come ricercato bene detto ciò ringrazio tutti per la visione il secondo per l'ascolto di questo banale cretino tutorial di oggi iscrivetevi commentate ora sapete anche come premere la r sulla tastiera ciao al prossimo video da narratore italiano grazie a tutti